Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Inizia la perquisizione sul peschereccio croato, affondato a largo di torrette alla ricerca di prove e strumenti idonei a far luce sulla notte del naufragio. Beato Antonio D'Afano, il comune chiede gli sequestro della bara e l'autorizzazione ad aprirla. Inaugurato all'ospedale di Muraglia il secondo caschetto antialopecio per prevenire la caduta dei capelli dopo la chemioterapia. Cattolici uniti per la difesa della vita e contro l'eutanasia, domani a Fano un incontro con medici, magistrati e parroci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con il maltempo che ha colpito le marche con pioggia e forti raffiche di vento fino a 80 km orari. In particolare nelle province di Pesero Urbino e Diancona i vigili del fuoco e i tecnici della provincia sono intervenuti per allagamenti, piante cadute in strada e pali di venti. Un'ondata di maltempo ha investito le marche per un impulso freddo dal nord atlantico che sta attraversando in queste ore il centro-sud Italia con rovesci e temporali anche forti che hanno colpito la scorsa notte parte del nord est. Attualmente ritroviamo rovesci e temporali sparsi al centro-sud ma in modo particolare tra Marche, Umbria, Lazio, Abruzio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia. Nelle Marche è particolarmente colpita la fascia costiera sia nella provincia di Pesero che nell'Anconetano. A Fano in realtà non sono state le piogge a causare criticità ma il vento, le cui raffiche hanno toccato punte anche superiori agli 80 km orari. Questa mattina tutte le strade erano un tappeto di ramaglie e fogliame caduto dagli alberi rendendo particolarmente insidioso il manto stradale. A Fano come è anche a Pesero le squadre dei Vigili del Fuoco sono state fuori tutta la giornata a ciclo continuo per liberare le strade dai rami e dagli alberi pericolanti. Nessuna però situazione particolarmente grave ma interventi diffusi su tutto il territorio. A Pesero tra Sant'Angelo, Lizzio, Leggino e Stretto un grosso ramo è caduto su di un camion in transito. Fortunatamente senza conseguenze fisiche per il conducente ma strada bloccata ed intervento dei Vigili del Fuoco per alcune ore per liberare la strada. Chiusa in più punti, sempre nel Pesarese, la provinciale 57 e poi in città diverse decine di grondai e sottotetti sono stati messi in sicurezza. A Fano il vento in via della Colonna ha abbattuto un insegna di un supermercato e non sono mancate le cadute rami come in via 4 Novembre o in via Papiria lungo il canale Albani dove si registra una vera strage di rami. In via San Lazzaro un albero è caduto al centro della rotatoria e diversi problemi ai vari cantieri dislocati in tutta la città come quello all'interno del centro commerciale di San Lazzaro dove il vento ha divelto un'impalcatura. Stessa sorte per il cantiere nella rotatoria di via Roma e su piazzale Amendola. Gravi problemi anche all'illuminazione pubblica con un gabbiotto dell'Enel in località torno distrutto, diversi lampioni abbiattuti in tutta la città ed un palo della luce diverto in via Ruggeri. Polizia locale e Vigili del Fuoco continuano a monitorare le zone maggiormente colpite dal maltempo come anche nell'Orcianese per un grosso ramo che ostruiva la carreggiata o a Pian di Rose dove in via arriva Tarugo probabilmente per il fondo stradale reso viscito dalla pioggia e un'auto è uscita di strada cappottandosi e finendo in un campo. Super lavoro quindi per i Vigili del Fuoco in tutta la regione, disagi all'ospedale civile anche a Senigallia mentre a Marina di Monte Marciano un palo è stato diverto dalla forza del vento ma trattenuto dal semaforo che ha impedito la caduta sulle auto sottostanti. Alle 13 in provincia di Ancona risultavano svolti 12 interventi e 53 erano in coda. In provincia di Pesaro Urbino gli interventi sono stati 22 svolti mentre 51 erano ancora in coda e in via di smaltimento. Le tartarughe di Luciana sono nate, la scoperta è stata fatta questa mattina dai volontari e dalla fondazione Cetacea che erano intervenuti per salvare le uova dalla forte mareggiata in Baia Flaminia a Pesaro. Tutti i dettagli nel servizio di Francesco Salvago. I volontari della fondazione Cetacea sono dovuti intervenire di urgenza per mettere in salvo le uova depositate sulla renile pesarese di Baia Flaminia della tartaruga Luciana. Una forte mareggiata questa mattina ha invaso la zona del nido. In un primo momento sembrava tutto perduto, affermato il sindaco Matteo Ricci sulla sua pagina Facebook, ma grazie ai volontari e responsabili del centro Cetacea si è deciso insieme ai veterinari di intervenire. Durante le operazioni sono state messe in salvo una trentina di tartarughine formate, pronte ad uscire, mentre altre erano ancora attaccate al sacco vitellino, anche se vive. Altre invece non erano schiuse completamente. Si contano circa una settantina di uova. I cuccioli sono stati portati in una clinica veterinaria che da giorni era preallertata. Sul posto sono giunti anche la Capitaneria di Porto, gli operatori del Parco San Bartolo, aggiunti allo staff dei volontari della fondazione. E a causa del maltempo, la ditta che sta eseguendo i lavori di pavimentazione nel comune di Fanno ha comunicato che gli interventi programmati per le giornate di oggi e di domani 4 ottobre non potranno essere realizzati. Pertanto le modifiche comunicate in merito al tratto finale della superstrada non saranno attive. I lavori riprenderanno da lunedì con il programma aggiornato. E ancora a cronaca, un migrante africano ha seminato il panico per un'ora e mezza a lungo Viale Trento a Fermo, urlando e aggirandosi sotto la pioggia con una roncola in mano con cui ha minacciato le auto di passaggio e terrorizzato i passanti. Poi si è dileguato a piedi, inseguito da polizia, carabiniere e guardia di finanza e è stato catturato a Fosso, Valle Scura. Si tratta di un irregolare, ha detto a Lanza il sindaco Paolo Calcinaro. L'uomo non è inserito in programmi di accoglienza e è già stato raggiunto da un provvedimento di espulsione. E adesso torniamo a parlare della salma del Beato Antonio da Fano che potrebbe celarsi all'interno della bara di zinco rinvenuta nel vano di una porta all'ex convento di Santa Maria Nuova. Questa mattina il comune di Fano ha inviato una lettera al magistrato che ha in carico le indagini. La dottoressa Maria Letizia Fucci, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, per chiedere il dissequestro della cassa recuperata durante i lavori nella residenza adiacente dell'Ordine dei Frati Minori. Nella lettera firmata dal sindaco Seri si chiede anche la restituzione della cassa al comune che è proprietario dell'edificio in cui è stata rinvenuta. Si chiede inoltre l'autorizzazione ad aprirla per poterne studiare il contenuto. E dopo il sequestro invece del peschereccio croato affondato a largo della costa di Torrette di Fano, stamattina è iniziata la perquisizione sul relitto per cercare documenti e prove al fine di ricostruire i motivi di questo naufragio. Alle 10 di questa mattina la guardia costiera ha passato al setaccio il peschereccio croato Andrea, naufragato a largo della costa di Torrette, nel cuore della notte del 26 settembre e tirato a secco nel cantiere della Marlift di Fano, dopo che ieri mattina si sono tenute le operazioni di recupero da parte del motopontone Magno. Gli uomini della capitaneria, coordinati dal capitano di fregata Maurizio Tipaldi e guidati dal comandante del porto di Fano Castellana, su indicazioni del magistrato, la dottoressa Valeria Cigliola del Tribunale di Pesaro, hanno prelevato varia documentazione, hanno ispezionato le cabine, i gavoni di ricovero del natante e prelevato strumentazioni di bordo, utili a fare chiarezza sulle tante zone d'ombra che la vicenda presenta. In primi, se si vuole ricostruire, la rotta tenuta dall'equipaggio e la velocità del natante al momento dell'impatto con il fondale. Già questi due elementi aiuterebbero a capire diverse cose. Il punto dell'impatto primario è ben visibile sulla prua del peschereccio di 14 metri in legno che presenta in corrispondenza della ruota di prua chiari segni di impatto. Ma le vie d'acqua sono più di una, non solo questa, che hanno fatto sì che il peschereccio colasse a picco. Anche lungo le fiancate, sotto la linea di galleggiamento, si sono aperte diverse falle, non di grosse dimensioni, in base anche alla conformazione delle scogliere, ma sufficienti a causarne il naufragio. Il lavoro dei militari della Guardia Costiera sul natante continuerà presumibilmente almeno fino a metà della prossima settimana, dopodiché, una volta dissequestrato, verrà rimesso nella disponibilità dell'armatore. I carabinieri di Osimo hanno arrestato in provincia di Caserta due albanesi rispettivamente di 36 e 32 anni, ritenuti responsabili insieme ad altri complici di 73 furti in abitazione nelle Marche Umbre e Campania per un bottino complessivo di 200 mila euro. La banda sarebbe specializzata nei furti in appartamento con la tecnica del foro. Nelle Marche sono 36 furti messi a segno, di cui 17 in provincia di Ancona, 13 in quella di Macerate e 6 in provincia di Fermo. Le indagini sono durate sette mesi. Nell'azienda ospedaliera Marche Nord è arrivato il secondo caschetto anti-alopecia per prevenire la caduta dei capelli dopo i trattamenti chemioterapici. Lo strumento è stato posizionato nello stabilimento di Muraglia. Inaugurato nell'azienda ospedaliera Marche Nord è il secondo caschetto anti-alopecia per la prevenzione della caduta dei capelli dopo i trattamenti chemioterapici. Lo strumento già in uso per le pazienti è stato posizionato nello stabilimento di Muraglia dell'azienda ospedaliera. L'utilizzo del sistema del macchinario di NICAP permette al medico oncologo di prevenire la perdita di capelli durante la chemioterapia attraverso il raffreddamento del cuoio capelluto ottenendo ottimi risultati nel 70% dei casi. Con questo sistema computerizzato e refrigerato noi riusciamo a portare il cuoio capelluto a 3 gradi e chiaramente è un percorso graduale c'è una preparazione di un'ora, un'ora e mezza poi c'è tutto il periodo di infusione del farmaco che viene sempre infuso a una temperatura del cuoio capelluto di 3 gradi in modo che la vasocostrizione non dà danni ai bulbi peliferi e poi c'è un ritorno alla normalità. Il secondo macchinario arrivato in regione è stato fortemente voluto per agevolare al meglio i pazienti ed evitare spostamenti tra i vari presidi collocando Marche Nord tra le eccellenze in questo tipo di specializzazione. L'otta ai tumori non significa solo investimento tecnologico ma significa anche umanizzazione e Marche Nord sta lavorando sui due versanti umanizzazione e tecnologia. Il macchinario è stato finanziato grazie al sostegno della regione Marche che ha sbloccato e investito milioni di euro in macchinari di ultima generazione a vantaggio del paziente e delle cure. Sono piccoli presidi di grandissimo valore oltre alla presenza Fano adesso anche nella struttura di Pesaro è possibile utilizzare questa tecnologia credo che sia il segno di una sanità che guarda sempre con maggiore attenzione la persona all'umanizzazione dei propri servizi a tenere insieme un'alta qualità professionale con la cura delle piccole cose. Uniti per la difesa della vita e contro l'eutanasia domani nella chiesa di Santa Maria del Suffraggio si terrà un incontro per riflettere su questo argomento grazie anche ad alcune testimonianze. Sì, in realtà questa iniziativa è stata pensata da un gruppo di amici attorno a Daniele Molaschi qui a Fano lui ha coinvolto alcune delle associazioni presenti sul territorio in particolare Scienza e Vita il Movimento per la Vita di Fano l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e il Comitato Difendiamo i Nostri Figli abbiamo scelto di trattare questo tema con un titolo un po' provocatorio che cosa ci sta succedendo perché in tema di questioni legate al fine vita era in ballo la decisione della Suprema Corte della Corte Costituzionale che è arrivata puntualmente il 25 settembre di fronte a questa decisione che ha di fatto depenalizzato il reato di aiuto al suicidio attenderemo di leggere le motivazioni della sentenza ma questo è nel comunicato stampa ci sentiamo interrogati per dire ma dove è finita la solidarietà nei confronti delle persone più fragili nei confronti delle persone che hanno più difficoltà e proprio nel momento di maggior difficoltà vengono eventualmente accompagnate e spinte quasi alla decisione finale crediamo che sia necessario riaffermare il diritto alla vita di tutti ma anche il dovere di proteggere la vita anche quella vita più fragile e più indifesa alla Chiesa del Suffragio venerdì 4 ottobre alle 18 saranno presenti i rappresentanti delle associazioni che ho detto ed in particolare ci saranno il dottor Giacomo Rocchi magistrato che tra l'altro ha scritto un libro su questo argomento licenza di uccidere ci sarà la dottoressa Ruggeri che è un chirurgo dei trapianti dell'Università Policlinico di Siena ci sarà la dottoressa Germana Severini che è un medico palliativista della fondazione Ant e opera nel territorio pesarese e ci sarà Don Daniele Federici che è professore di storia della Chiesa all'Istituto Teologico Marchigiano che ci permetterà anche di inquadrare in quale contesto storico-culturale avvengono queste decisioni ci saranno poi delle testimonianze di persone come dire direttamente che vivono sulla loro carne questa difficoltà la mamma di una bambina che ha appunto una gravissima disabilità e una famiglia che racconterà l'accoglienza attraverso la comunità Papa Giovanni Passiamo ad una notizia di sport questo fine settimana Cucurano di Fano torna alla Cucurano la gara podistica della solidarietà giunta alla quattordicesima edizione Siamo arrivati a 14 candeline e c'è da dire che quest'anno la Cucurano ha ampliato gli orizzonti oltre all'aspetto sportivo tratteremo alcuni temi come quello dell'alimentazione sostenibile e dell'immigrazione inizieremo già venerdì 4 ottobre alle ore 18 con un incontro dal titolo Alimentazione sostenibile e agricoltura biologica tenuto dalla professoressa dell'Università di Urbino Elena Viganò al quale saranno presenti anche delle aziende agricole del biologico del territorio oltre a questo parleremo di immigrazione lo faremo appunto sempre domenica però alle ore 17 con uno spettacolo ad ingresso gratuito di Mohamed Ba dal titolo Il riscatto e poi la classica la giornata classica che è quella di sabato con il Memorial Giuseppe Burrai giunto alla non edizione la corsa per i bambini la camminata la camminata a quattro zampe Nordy Walking quindi una giornata di movimento ma anche di sensibilizzazione perché ci saranno poi i laboratori ludici delle associazioni del territorio che dedicheranno il loro tempo ai bambini e quindi cosa posso dire in conclusione ecco vi invito a venire a Cucurano al Circo Lacli a passare questo weekend per la quattordicesima edizione della Cucurano ormai mancano pochi minuti all'arrivo ancora mi piace sottolineare il fatto che abbiamo cambiato giorno quest'anno la gara la facciamo di sabato proprio per incentivare di più anche la partecipazione degli adulti e dei bambini soprattutto e vi posso già anticipare che abbiamo avuto numerose pre-iscrizioni delle scuole elementari siamo giunti a 250 pre-iscritti un numero mai toccato fin d'ora per quanto riguarda la podistica degli adulti siamo tornati ai classici 10 chilometri misurati perfetti in cui tutti si possono cimentare per provare il proprio personal best sul percorso il percorso è tutto pianeggiante che si snoderà lungo le strade di cucurano e falcineto e bellocchi diciamo così e posso anticiparvi una sorpresa che avremo un ospite molto importante a livello di atletica leggera italiana abbiamo il campione la presenza del campione italiano degli 800 metri su pista Simone Barontini io chiedo a tutti di partecipare anche alla passeggiata o se avete un cane venire a fare la passeggiata con il proprio cane l'incasso sarà devoluto alle scuole che riusciranno alle prime tre scuole che riusciranno a portare il maggior numero di ragazzini ecco che sta arrivando al traguardo lo stiamo seguendo insieme e questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale vi annuncio che lunedì come sempre torna primo cittadino ma ospite della puntata sarà il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli per intervenire in diretta potrete chiamare lo 0721 86 14 33 oppure potete inviare un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250 io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla notizia fra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla banca di credito cooperativo del Metauro arrivederci grazie a tutti